Ciao ragazzi, in questo video vedremo assieme 8 tendenze per la moda uomo 2018-2019. Iniziamo subito! La prima tendenza che andiamo a definire è sicuramente il colore marrone come colore di tendenza del 2019. È un colore semplice, facile da abbinare, ma è un colore che soprattutto d'inverno sbatte un po'. Io ho appena acquistato un cappotto sul beige color cammello e sicuramente con la tonalità della pelle un po' più chiara, classica dell'inverno, è un po' rischiosa da indossare. Però diciamo che possiamo giocare con tutte le nuance del marrone, del beige, del color rosso aranciato, del vinaccia. Quindi giochiamo con le diverse gradazioni e le diverse nuance di questo marrone e troviamo quella che fa più al caso nostro a seconda anche del nostro tono della pelle. L'abbiamo visto anche come colore di tendenza nella moda donna e quindi possiamo dire che sicuramente il marrone sarà il colore di quest'anno. Ed è una scelta di colore che accomuna molti brand anche del lusso come Louis Vuitton e Gucci. La seconda tendenza invece riguarda l'abito maschile che quest'anno predilige il gessato. Gessato che vediamo utilizzato anche in collezioni come Off-White e Maison Margiela e che ritroviamo anche in brand molto ma molto classici. Se inoltre avete visto il video dedicato alle tendenze donne, ritorno negli anni 80. Quindi sono anche ben accetti gli abiti anni 80 da uomo con un po' di spallone. Ecco ovviamente magari non presentatevi in ufficio con l'abito con gli spalloni anni 80. Però nel tempo libero e magari per giocare e divertirsi anche un po' con i vecchi abiti, è molto ma molto divertente riprendere fuori quegli abiti degli anni 80 che avevano questi spalloni importanti. Magari vediamo come ci cadono addosso ma è molto divertente giocare con tutti quegli abiti e quei volumi, quelle forme di un tempo. Altra tendenza che sicuramente non passerà inosservata sono i maglioni Wow Effect. Cioè come per la donna sono maglioni con lavorazioni importanti, texture, grandi pattern, lavori di patchwork, disegni molto importanti, giochi cromatici. Insomma il maglione diventa sicuramente un pezzo importante per dare uno sprint a tutto l'outfit invernale per l'uomo. E ne vediamo alcuni esempi nelle collezioni di Calvin Klein o ad esempio Acne. Cresce inoltre in questi anni e nel 2019 credo sia destinato a fare ancora più chiasso, ancora più baccano come tendenza. E sto parlando della logomania. Un esempio eclatante è sicuramente Fendi Mania che sta riproponendo sempre più in modo costante e chiassoso, se così possiamo dire, il proprio logo. Utilizzato sicuramente come pattern, quindi quasi non ci si accorge perché fa tutto parte della texture della maglia piuttosto che del pantalone o comunque risulta una stampa non fastidiosa. Ma la vediamo in tantissimi marchi. Questa cosa della logomania che veniva utilizzata e in alcuni casi abusata anni fa sta tornando. Vedremo quali saranno le evoluzioni, penso anche a brand che si stanno rilanciando in questi anni come K, LS e tanti altri brand che vengono un po' dallo sportswear. Stanno riproponendo in modo molto forte il proprio logo e la propria iconografia. Quindi la logomania sarà qualcosa che tornerà sempre più presente nella moda. Abbiamo passato un po' di anni minimali con non logo come mantra, adesso si sta tornando al logo e comunque a quel senso di appartenenza alla marca e ai valori della marca, quindi alla community che si va a creare attorno a un brand. Che sicuramente è anche un po' il sintomo e il risultato dei diversi cambi che stanno avvenendo nella società. E quindi ha il bisogno di sicurezze e quindi anche il riconoscersi all'interno di una community. Altra tendenza è sicuramente la stampa quadri, quindi tweed, tartan che vediamo in collezioni come Versace, Marni e molti altri. E se vogliamo parlare di capi spalla maschili non possono mancare quest'anno tre tendenze. La prima è sicuramente il cappotto di pelle. Si lo so, non è per tutti perché è comunque una scelta un po' più ardita, ma molti, molti designer quest'anno hanno deciso di riproporre quel cappotto di pelle lungo, fatto a vestaglia, quindi con la cintura, oppure con tasconi laterali che andavano un po' a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. Quindi sicuramente non sarà una scelta di tendenza per tutti, o diciamo comunque per i più, ma se brand come Hermès, MSGM, Prada lo hanno inserito nelle proprie collezioni, ne vedremo sicuramente qualche declinazione per le strade. Altro capo spalla di tendenza, anzi in realtà più che una tendenza è una sicurezza ormai, è il piumino che torna, anzi rimane nelle tendenze per questo 2018-2019, anche grazie all'immense e meraviglioso lavoro che ha portato avanti per tutto il 2018 Remo Ruffini H. Mr. Moncler. E sicuramente questo è uno di quei capi che non può mancare nel nostro guardaroba maschile e che può essere utilizzato tutti i giorni in qualsiasi situazione. L'ultimo capo spalla di tendenza di cui vi voglio parlare è sicuramente lo shirling, o il cosiddetto montone, che non può mancare quest'anno. Ve ne ho già parlato in un altro video, quello dei 4 giubbotti essenziali da avere per l'uomo durante l'inverno e ritorna quest'anno in diverse declinazioni, quindi giocate, prendetelo grande, over, molto voluminoso, più stretto e più vicino a quelle che possono essere le vostre misure. Andatelo a cercare negli armadi dei vostri familiari, nei mercatini vintage, nei vari e-commerce. Ad ogni modo fate sì di accappararvene uno il prima possibile e guardate bene, selezionatelo bene, in modo tale che vi possa durare anni e anni e magari far sì che possiate passarlo anche ai vostri figli. Quindi scegliete qualcosa di classico, non troppo modaiolo, che vi possa accompagnare di qui a 10-20 anni. Questa era l'ottava e ultima tendenza per questo 2018-2019 da uomo. Spero che vi siano piaciute, scrivetemi qui nei commenti qual è la tendenza che preferite e che sicuramente cavalcherete quest'anno. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!